Ciao a tutti ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo del miracolo avvenuto a San Pietro. Si infingono con gobbe deboli per chiedere la carità a Roma, ma in realtà hanno la forza per darsene di santa ragione. Forse, un disaccordo per occupare il posto per chiedere l'elemosina ha scatturito questa rissa, che a colpi di bastone, vedete. A pubblicare il video su Twitter è stata l'associazione Riprendiamoci in Roma. Chiaramente, il video è subito diventato virale. Gritare al miracolo? Non credo. Se vi interessa, iscrivetevi al mio canale per altri news. Un saluto da Giorret. Ciao. 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 Grazie per la visione!